L'ascesa della federazione ha avuto inizio anni fa. La distruzione dei deserti ricchi di risorse ha portato al declino delle potenze mondiali che dipendevano da essi. E così la federazione si è imposta. Poi i Fed hanno occupato l'intero Sud America, lasciandosi alle spalle una scia di distruzione, mentre si spingevano sempre più a nord. Dopo aver rivolto Odin contro di noi, la federazione è arrivata alla nostra porta di casa, pronta al colpo di grazia. Ci credevano deboli, Fred è ormai sottomesso. Noi abbiamo tenuto duro, portando il conflitto in condizione di stallo. Qui, oltre ai crateri della terra di nessuno, ogni giorno stringiamo i denti contro un nemico implacabile e immensamente più forte. Sì, ci siamo. Mi nascolto. Ci sono novità. Stanotte hanno invaso Dallas. Il comando vuole subito un controllo al muro. Cazzo, superstiti? Nessuno. Non ti ho svegliato. Dormivi come un bambino. Calma per me. Ascolta. Riley, fiuta qualcosa. Prendi la tua roba. Squadra 2, siete vicini. Negativo. Siamo fuori. Avete notato qualcosa? Riley, sì. Controlliamo. Ok, vi daremo l'uscita. 2-1, chiudo. Di qua. Coppoli. Vieni, bello. Libero, andiamo. Sono vicini. La porta a destra. Forse Riley aveva fame. Qui non c'è niente da mangiare, bello. Torniamo indietro, chiediamo un po' di pappa. 6-1, situazione? Solo un animale, tutto tranquillo. Ok. Ci spostiamo al punto Silver. Ricevuto. Arriviamo. Ci vediamo al muro. Andiamo uscendo. Ok. Eccola, si regge ancora in piedi. Ehi. Sergente. La zona è sicura? Più o meno. Manca questo lato del muro e ci siamo. Noi a sinistra. Rapidi. Ci vediamo al benzinaio. Ricevuto. Ehi, Riley. Controlla. Sentito, c'è qualcuno. Aspetta, Riley. Se parte l'attacco, apri il fuoco. Ammazzali. Qui mi sparano addosso. Contatto a venti. Riley, vai! Riley, fermo! Un'altra pattuglia fede. È già la quinta volta. 2-1, contatto con un'altra squadra federale. Appuntamento a Overwatch. Dobbiamo riunirci. Ok, stiamo arrivando. Riley, qui! Porca puttana. Lascialo stare! Su Paesca era tan fácil como su gente! Ammazzano i civili, andiamo, andiamo! Riley, vai! Versagli, ore 12. È fuori portata! Guardo di copertura! Ricevuto! Attacco a ore 12. Roger, lo vedo! Passagli, ore 1. Roger, lo seguo! Disparalo! Di qua. Bello, segui! A tutte le unità, contatto federale al muro. Servono rinforzi, subito! Ripeto, siamo a certo attacco! Ricevuto! Lanciate un fumogeno, arriviamo! Ok, segnaliamo col fuori verde! Verso il muro! Sì! Hai4! Quello che fuori è morto! No! Arring! Sono 12! Non è passato. Non è passato. No! Non è passato. Non è passato. Non è passato. Grazie a tutti. 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 Dove andremo di preciso? In un posto che conoscete molto bene. A casa.